Sono 15.022 i tamponi molecolari svolti nel drive-thru dell'incoronata dall'11 novembre scorso ad oggi, ovvero dall'avvio della postazione dell'arma dei carabinieri. Dal 19 aprile scorso ad oggi sono invece 629, compresi 114 svolti oggi, da quando cioè sono scese in campo tre donne nel personale sanitario militare dell'arma dei carabinieri. Le tre, di cui una ufficiale, hanno incontrato questa mattina il sindaco della città di Sulmona, Maria Casini, che ha ringraziato il personale dell'arma dei carabinieri per il supporto fornito nel corso dell'emergenza pandemica in atto. È un ringraziamento da parte di tutta la città all'arma in generale, ma loro che qui stanno svolgendo lontano da casa, lontano dai propri affetti, alcune di loro hanno una famiglia anche con bimbi piccoli. Ecco, un grande sacrificio in nome di una grande impresa, di un grande compito che viene richiesto in momenti come questi e le donne di fronte a queste situazioni non si tirano mai indietro. Dai bambini agli anziani, passando per le persone più fragili, la figura della donna è stata particolarmente importante per interagire con più sensibilità e umanità in un momento che resta delicato, ovvero lo svolgimento del tampone, un esame particolarmente invasivo. Se i casi che più ci hanno fatto riflettere sono quelli dei bambini, perché ad esempio proprio ieri c'è stata una bimba di neanche tre anni che assolutamente non voleva fare l'esame. E quindi diciamo che tornando appunto al discorso precedente, l'essere donna, nel mio caso essere mamma, quindi conoscere tutti i punti deboli dei bambini ci ha permesso di riuscire in questa procedura comunque. Quindi sì, forse è questo. Bambini che con i loro giochini diciamo ci rendono il lavoro un po' più difficile, ma in ogni caso è andata bene, è andata bene. Beh certo, siamo alla vigilia della festa del primo maggio, c'è sicuramente un sacrificio perché si lascia da parte la famiglia, i figli, tante cose per stare in prima linea anche in questo momento. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che non è facile assolutamente stare lontana da casa, poi molti di noi lasciano a casa bambini anche molto piccoli come nel mio caso. Io ho un bimbo di due anni in Sardegna, però sono convinta che ne valga assolutamente la pena perché innanzitutto questa è un'esperienza veramente importante, poter rappresentare l'arma in questa circostanza, poter aiutare appunto le persone a dare il proprio contributo. Sono sicura che ne valga assolutamente la pena. Quando mio figlio poi sarà più grande e consapevole, sono sicuro che anche lui sarà fiero di quanto ha fatto la sua madre. Un momento per dirla con le parole del capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sulmona, Maurizio Dino Guida, che rafforza la collaborazione tra le istituzioni. Grazie. Grazie.